Cari amici di Viva la Moto, ECMA 2017 stand Honda alle mie spalle, una vera regina, la nuova Honda Africa Twin Adventure Sport. Una moto pensata davvero per poter essere guidata su qualsiasi terreno, a qualsiasi latitudine. Per questo i tecnici Honda sono intervenuti sulla escursione delle sospensioni, aumentandola di ben 20 mm. Sulla posizione di guida il manubrio qui è in posizione rialzato e soprattutto aumentando la capienza del serbatoio che qui supera di poco i 24 litri consentendo circa 500 km di autonomia. Guardate, provo ad inquadrarvela anche sul lato sinistro, davvero il colpo d'occhio, credetemi, è notevole. E poi guardate, sulla sinistra dell'inquadratura, la moto a cui si sono ispirati i nuovi tecnici per creare questa Adventure del 2017. La Honda, qui la vediamo, la prima Africa Twin, l'indimenticata 650 del 1988. Soprattutto la verniciatura della nuova Africa Twin Adventure Sport la ricorda molto, anche se la tonalità del blu è leggermente differente. Beh ragazzi, che dire, se volete commentare siete benvenuti, fatelo qua sotto e se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Viva la Moto! Ciao!